buongiorno a tutti cari amici in questo mercoledì 14 ottobre 2020 viene prima di uscire di casa per i vari impegni facciamo il punto con due video questo è il primo anche se ho reso pubblico ho reso pubblico l'anteprima di all'elite wrestling dynamite anniversario 2020 bene ieri sera nel girone a sono successe davvero cose incredibili come appunto l'incredibile vittoria del mister shell 5 con la sua gran in casa contro la spagna per 1 a 0 e rocambolesco pareggio per 3 a 3 tra germania e svizzera ma quindi andiamo a vedere la situazione della classifica del girone a prima è la spagna sette punti seconda la germania insieme all'ucraina con se la svizzera ha due punti allora vediamo nelle prossime la svizzera giocherà in casa contro la spagna mentre la germania giocherà in casa contro l'ucraina bene al prossimo video parleremo della nostra nazionale maggiore dell'italia probabile formazione situazioni classifiche grazie a voi tutti ci vediamo a frappe ciao